Prima di tutto, sono un grande fan di Caserta City, tutti conosciamo questo. E' una gioca. Credo che la squadra sembra molto bene, era difficile per loro giocare contro un tipo di squadra. La squadra sembrava molto ben inquadrata, ha giocato bene, anche se purtroppo eravamo senza centri. Abbiamo mostrato voglia di vincere e soprattutto una gran forza di gruppo. Quando ci siamo incontrati durante il torneo di Trento abbiamo parlato con Pino, ci siamo visti e abbiamo parlato. Lui mi voleva da Avellino, io volevo venire da Avellino e abbiamo siglato il contratto. Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione? Cosa sono i tuoi obiettivi per questa stagione? Cosa era una半'italiano e una半'inglese. Buon lavoro. Il mio obiettivo per questa stagione è di vincere ogni... Posso dire? No. Per vincere ogni gioco, ogni campeonato... Il mio obiettivo di quest'anno è vincere tutto, vincere ogni partita, vincere la Lega, la Coppa, essere il numero uno ad Avellino, essere l'MVP della stagione ed essere il vincente. Sì, conosco Marti Lunen, conosco Zerini, conosco Parlato. Oltre a quelli che c'erano l'anno scorso, non conosco nessuno, a parte il mio compagno di ruolo Andy Aye, di cui ero il compagno di stanza in D-League. è un ottimo giocatore, molto forte e spero che possa dare una mano. È l'unica cosa che ho da dire, la prima volta che sento questa cosa, l'unica cosa che ho da dire è chi è Sean Jones. Spero di essere pronto per Reggio, sono tornato, sto facendo preparazione con Silvio, credo che la farò ancora per 4-5 giorni dopo questo piccolo intervento che ho subito in attesa che si ricostruisca la massa e spero di essere pronto il prima possibile.